100 giocatori fatto uscire dalla yee inedito mai visto su fifa vediamo che cosa riusciamo a trovare signori se sarà scavo oppure no lo scoprimo a breve a brevissimo ragazzi io vado a stecca io vado a stecca parto a stecca direttamente ragazzi pacchetto da 100 giocatori signori 100 giocatori pacchetto 100 centurioni con un parcento poro spagnolo vai vai il buon rodri però aspetta perché il centurion potrebbe stare anche sotto ok fote vai mamma mia mamma mia eccolo qua chin vabbè dai centurion altra corsa vai quasi garantito la presenza di un centurion quasi vediamo vediamo se è vero show oblak kane vediamo un po cosa c'è vabbè quando vedi l'argento va bene va bene giriamo giriamo niente non è garantito non è garantito grande non è garantito pacchetto 100 centurioni sontuosi direi sontuosi chrismanna chrismanna no vabbè il buon vabbè sta sotto solitamente vabbè le fantoschi vedi casemino questo è stato già meglio comunque è già meglio è già meglio è già meglio questo è quello buono taremi sulle mani per taremi sulle mani per taremi boys taremi letesma kulaxi savage e beh beh devo dire not bad devo dire not bad devo dire no dammelo buono mannaccio non c'è non c'è il centurion non ci migliori eh sicuramente che è questo qua ah i buon da cassa luiz poteva andare un po' meglio ok borini garcia fabinio questo puritem questo puritem dai dai no dai mamma bruttissimo questo qua brutto brutto non mi piace no mi piace signori altro pacchetto 100 centurioni facciamo i seri attenzione francia brasilia dici no ti è così vabbè però qua ci deve essere il mondo sotto si è metterlo ti è così vabbè 86 un po' cosa esce smith zico no dai che roba è dai centurion 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 no 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 dai ma come va bene va bene va bene va bene roverson what il buon roverson anche questo da evitare direi vediamo un po' cosa c'è sotto magari un bel centurion ti prego yay ti prego yay argento argento no kundee dai ma come kundee quanto sta sto pacchetto c'è il pezzo di questo pacchetto quante ok casemiro va bene vediamo 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 un po' vediamo un po' argento niente non c'è uno ne dà il centro ragazzi hai ragione aspetta do mettere anche gli altri due metto anche gli altri due portiere noia e questo è caro onesto noia e verrati la porta il polaportino diciamo che non è malissimo dai non è malissimo non è malissimo beh io vado cioè io ho detto come no bruno ci mancherebbe mandamila lo share così possiamo vedere la schermata ma tornami è un po' cultura nazionale vedilo in grande stile pogba sotto pogba sotto vediamo 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 argento ah un altro centurion vabbè me ne mancava qualcuno anche a me in teoria me ne mancava qualcuno anche a me pochi inglesi e mount vabbè sotto stanni mar per forza animar sotto stanni mar per forza animar non scherziamo dai non scherziamo 84 no dai stanni mar sotto per forza vediamo ok scorri 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 non ci Grazie per la visione